Eccole là, senza sangue e senza cervello, non importa, lo ammazzo io, da sola. Voi consolatevi pure tra le lacrime, un bel pianto meglio si addice alle donnette stupide. Ci è capitata una malaugurata disgrazia, che possiamo farci? Nulla, ci è caduto il mondo addosso, che possiamo fare? Possiamo piangere e piangere tanto, il mondo è pieno di donne che piangono e stronzi che ridono. E allora piangete e non abbiate paura se non avete la forza di battere i pugni, di alzare la testa e di difendervi. Tutti capiranno, sarete persino commiserate, già che siete soltanto delle donne. Io sono Desi, della compagnia Non fate caso a noi. E questo era un piccolo estratto dal nostro spettacolo Tango Monsieur, che racconta di quattro donne che, ingannate dallo stesso uomo, diciamo, gliela fanno pagare. E allora, se volete venire a vedere come gliel'hanno fatta pagare, restate a casa per adesso. Così potrete venire nei teatri quando Tango Monsieur tornerà, perché andrà tutto bene. Quindi, hashtag, restate a casa. Anche perché se no, vengo a prendervi io, uno per uno!